Morto sulla soglia di 34 anni l'orso Sandrino, che da qualche anno aveva iniziato ad accusare gli acciacchi dell'età. Record per un orso che in natura spesso non arriva alla metà dei suoi anni. Veri e propri ambasciatori del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, riferisce lo stesso ente, Sandrino venne recuperato nell'agosto dell'82, denutrito e malato. Il suo nome è in onore dell'ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini. L'ente Parco per queste ultime primavere aveva predisposto un trasferimento dall'area faunatistica dell'orso di Villa Vallelonga al centro visita di Pescasseroli per poterlo assistere quotidianamente con le cure del veterinario, grazie alle quali è stato possibile alleviare le sofferenze legate al fisiologico invecchiamento. Per oltre tre decenni dunque un simbolo, dice il Parco, sia per la sua specie, permettendo a molti di conoscere più da vicino le caratteristiche dell'orso marsicano, sia per il Parco, che ne ha fatto, suo malgrado, un testimonial d'eccezione, diventando una vera e propria star con migliaia di fan e appassionati. Quando Sandrino venne recuperato dalle guardie del Parco, nell'agosto dell'82, pesava circa 10 chili. Cucciolo di pochi mesi fu trovato in evidente stato di denutrizione, perché abbandonato dalla madre, che evidentemente non era in grado di allevare l'intera cucciolata, e aveva selezionato, come accade spesso in natura, i cuccioli più robusti, abbandonando al proprio destino quello più debole. L'orsetto venne ricoverato presso le strutture del Parco e sottoposto a cure specialistiche, salvandolo da morte prematura. Dopo un periodo lungo di cura per farlo crescere, passato presso il centro di Pesca a Seroli nel 1999, e precisamente il 28 maggio, venne trasferito nell'area faunatistica di Villa Vallelonga, dove è rimasto fino al 23 dicembre del 2014, ieri la sua morte.